Tigers Are Not Afraid è l'horror fantasy scritto e diretto dalla regista messicana Issa Lopez. Presentato con grande successo attraverso il circuito festivaliero internazionale, viene pubblicato da Midnight Factory in un'edizione Blu-ray e DVD limitata, con booklet da collezione. Apriamo la confezione, protetta da uno slipcase classico in cartone morbido, che all'interno include la Marei classico plastificato destinato ai Blu-ray. Molto bello l'artwork fronte-retro che riporta le foto della protagonista del film, l'intensa Paola Lara, che nel film appunto interpreta il personaggio di Estrella, la ragazza che vive in una realtà devastata dalla guerra al narcotraffico in terra messicana. Apriamo la Marei e troviamo il consueto e curatissimo booklet Midnight Factory, con gli approfondimenti critici e l'inquadramento storico produttivo del film. Vi ricordiamo che il film è una straordinaria commistione di elementi realistici legati alla realtà di strada delle gang di minorenni nel Messico più devastato, con quelli del fantasy creaturale che in qualche modo si lega al cinema del primo Guillermo del Toro. Il film ha fatto incetta di premi e viene presentato da Midnight Factory senza contenuti speciali, ad eccezione del trailer del film.